tempo fa ti avevo fatto dei video dove ti ho parlato delle varie forme del fisico quindi mi sono concentrata sulla forma del fisico a clessidra appena a triangolo lasciato e a mela e a rettangolo parlandoti delle differenze e delle modalità per enfatizzare il tuo fisico enfatizzando appunto i punti di forza tenendo conto dei tuoi punti tra virgolette deboli quindi accorgimenti che ci possono aiutare a valorizzare la nostra figura attraverso la moda perché si può fare veramente tanto questo video ho deciso di continuare questo corso sul come vestirsi su come utilizzare per esempio i colori giusti e questo è uno dei primi video che continueranno questa serie e verrà inserito appunto nel corso della moda riguardante la moda quindi come valorizzare il proprio fisico non solo con l'uso di vestiti adatti e che ci possano valorizzare ma anche con i colori giusti che valorizzano il nostro incarnato e che siano adatti appunto al nostro sottotono di pelle spero che questi video possano esserti utili e fammelo sapere nei commenti soprattutto se hai delle richieste di video da farmi iniziamo subito questo video dove ti spiego dei piccoli trucchi che ci aiutano a slanciare le gambe e quindi a farle sembrare più lunghe e quindi slanciare e di conseguenza anche la nostra figura del nostro fisico il primo trucco è la continuità cromatica ad esempio se noi utilizziamo gli stivali prego dello stesso colore della dei pantaloni per illusione ottica sembrerà sembreremo più slanciate quindi le gambe sembreranno più lunghe soprattutto se gli stivali hanno anche un tacco e quindi ci slanceranno ancora di più un altro trucco utilizzare le calze e le scarpe dello stesso colore ti invito a fare la prova se indossi un paio di collant per esempio nere e delle scarpe colori nude o dorate o argentate o di un altro colore potrai accorgerti che otticamente la gamba sembrerà più corta in caso invece che tu usi ad esempio una calza nera con delle scarpe nere otticamente le gambe sembreranno più lunghe e più slanciate anche nel caso ovviamente se avrai le gambe nude con delle decoltè nude quindi nello stesso colore della tua pelle anche questo slancerà la figura e quindi le tue gambe secondo consiglio la vita alta per esempio se parliamo di gonne la gonna a tubino di cui ti ho fatto tra l'altro anche il tutorial è tutto un corso su come realizzarla dalla alla z compreso il cartamodello la gonna a tubino è una gonna che io lo dico sempre slancia tantissimo la figura soprattutto se arriva al ginocchio o al so al leggermente al di sotto del ginocchio al ginocchio midi o lunghe ancora di più se hanno uno spacco frontale quindi vita alta e spacco frontale quando utilizziamo per esempio i pantaloni a vita alta è importante che la vita sia visibile quindi inutile che ci mettiamo inutile che indossiamo i pantaloni a vita alta se poi sopra mettiamo ad esempio una felpona deve essere visibile il pantalone perché otticamente sembreremo più alte terzo consiglio i pantaloni fino a terra se utilizzi dei pantaloni che rimangono belli lunghi e che coprano le scarpe e tra l'altro magari può utilizzare anche delle scarpe con il tacco sarai più alta grazie al tacco e le gambe sembreranno più lunghe rispetto che se i pantaloni rimangono corti ideali sono i pantaloni a zampa quindi che rimangono più larghi dal ginocchio in giù oppure i pantaloni a palazzo quarto consiglio le scarpe a punta io non sono un amante delle scarpe a punta le ho avute le ho regalate e non ho intenzione più di rimettermele non sono di mio gusto però possono essere un alleato per un giusto alleato per aiutarci a slanciare le nostre gambe anche se hanno il tacco basso quindi consiglio cinturini sul collo del piede mi raccomando sul collo del piede non sulla caviglia perché cinturine alla caviglia tendono a far sì che la gamba risolti più corta sesto consiglio cintura in vita indossando la cintura in vita otticamente sembreremmo più con le gambe più lunghe è un'illusione ottica settimo consiglio le righe verticali le righe verticali si sa che allungano comunque la figura questo vale per le gambe ma vale anche per esempio per un busto corto se hai il problema di busto corto mettendo una maglia con le righe verticali sembrerà otticamente più lungo quindi pantaloni con le righe verticali daranno quell'illusione di gambe più lunghe e affusolate ottavo e ultimo consiglio utilizzare dei tessuti opachi rispetto ai tessuti lucidi aiutano a slanciare la figura e in effetti io difficilmente ora come ora indosso pantaloni o gonne con tessuti lucidi quindi per esempio in raso pantaloni in raso oppure gonne in raso tenderanno a ad allargare otticamente la figura e ad abbassare la lunghezza delle gambe tutto otticamente ovvio è tutta una questione ottica questi sono gli otto consigli otto trucchi per valorizzare le tue gambe farle sembrare più lunghe spero che questo video ti sia stato utile allora fammelo sapere nei commenti e iscriviti al canale e mettere un bel like se ti è piaciuto il video e fammi sapere appunto se questo tipo di video ti può interessare e se hai richiesti di video mi raccomando scrivermi nei commenti io ti mando un grande bacio sartoriale creativo ma soprattutto terapeutico ciao e al prossimo video ciao